Ho pregato tanto, per tutta la durata del mio matrimonio ho pregato per il mio marito, non che ci credessi, mi diceva solo, ci sanno male. E ho pregato tanti di quei cancheri a quel puttaniere che alla fine il Signore mi ha ascoltato e uno gliela ha mandato, centrato nel pieno di una delle sue ponte adulterino, dillo. Alla fine il Signore, così preso dai suoi impegni a confondere l'umanità, si è confuso pure Lui e ha mandato un colpo seco. Beh, questione di bontà. Io comunque avevo detto cancro. A dire il vero è che io sono un po' buona in fondo, il cancro è un subordine. Nella prima parte della mia preghiera chiedevo la grazia che tornassi a casa una sera finalmente raggiante e mi dicesse Ho perso la testa per un'altra, non posso vivere senza di lei, ti lascio. Ma quello non ha amato nessuna, mai. Anche quando mi ha sposata continuava a visitare la sua corte di vestali. Mi spiace solo di non aver potuto vedere la faccia della Signorina Quando l'hai rovinata addosso il quintale del gran montatore Che riposi nella pece. E voi? Cercavate una prova dell'esistenza divina? Dio c'è! La morte del porco n'è una prova e il Dio mi perdonerà! E tanto sono solo pesieri. Lui lo sa quanto ho dovuto subire io, quante privazioni, mentre quello si vendeva tutto. Lo scoprivo subito quando cambia la Signorina. Dopo un po' vendevo un campo. Era un anno di rivieni dal notario, il cliente migliore di tutto il paese. Poi anno dopo anno, quando terminarono i campi, cominciò a fare la moneta, quello che restava. Così un giorno il trattore andò in affitto ai vicini. Poi le bestie se ne andarono tutte assieme su un camion. Fece svuotare il fienile. A cosa serve tutto quel fieno? Che non ci sono più le bestie! E di via, pochi mesi, vendete anche il fienile con la stalla chiusa. Tanto! Fortuna che ormai cominciavo ad avere un'età che non mi poteva mica vendere. Magica in bianca, se non ci aveva pensato. Era meglio se ci pensavo prima. Diceva l'osteria quando andava a carruirarsi prima di tornare a casa. Me l'ha detto il gazzone del fornaio, che la giova aveva un deboli per me. Mi ha detto anche che quello si vantava delle sue conquiste. E di quanto gli costavano con tutti quei gentili uomini in canottiera davanti ai loro quartini. Lui! Che non metteva il becco fuori casa se non aveva indosso una camicia bianca e davidata di fresco. Eh! Una sera torna a casa e mi dice Ci siamo finalmente liberati di un peso. Quale peso? Dico io. E già me la sentivo la tragedia. Abbiamo venduto la casa, nobile e tutto. Abbiamo! Oramai era troppo grande per noi e costava un piroccio mantenerla. Così siamo andati a stare in una camera con uso di cucina eccetera paese. Sarò più comodo per i miei affari, diceva lui. Come se non riconoscessi i suoi affari. Ne parlava tutto il paese. Per il traslopo ci ha voluto poco. Mi sono portata via quello che avevo addosso. Ho preso gli occhi per piangere. Inutile il piangere passato, diceva lui. Volevo dire che aveva collato l'ultima per un uomo. Siccome non voleva spendere a casa, sono dovuta andare a servizio. Io, che avevo sempre avuto le mani lisce come il venuto. Perché non c'erano i soldi per pagare l'affitto. E quelli che guadagnavo dovevo tenerli nascosti sotto un mattone in cucina. Se no, si spurtano anche quelli. Adesso in paese hanno smesso di parlare indietro. E tutte le donne mi rispettano. Qualcuno sicuro mi invidia. E lo so che gli uomini all'osteria dicono «Occhio a quella che ha il cancro buono!» Non mi è rimasta nient'altro che la mia reputazione. E questo scaldino in ferro col manico di legno che mi accompagno in chiesa ogni giorno del mio lungo inverno. Rimango là tutte le mattine, seduta nell'ultimo banco, a pensare a gente. Pago così il mio debito di riconoscenza. Le vecchie del paese, che ne potrebbero raccontare anche loro, fanno a turno nei rifornimi di tizioni ardenti dai loro cammini. Li portano dentro a vecchi barattoli di conserva, con il manico e il fil di ferro ritolto, e riversano le braccia nel mio scaldino. È così che mi scalbo l'anima. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.